La prima cosa che vorrei dire è questa, noi ci troviamo a discutere sovente, non solo in Italia, ma complessivamente in Europa, del confronto tra identità diverse che si basano su tradizioni, su fedi religiose, su culture sedimentate di altri paesi e cosa che viene fuori, diciamo, di tanto in tanto, anche in forme molto pesanti, quando capitano fatti, ad esempio fatti di sangue, che richiamano l'opinione pubblica attorno al nodo dei conflitti di civiltà, come in una sorta di microguerra fatta sul territorio. La prima cosa che io vorrei dire è questa, che secondo me il tipo di identità comunitarie che vediamo qui e là, a formarsi in Italia o in modi magari più forti in Europa, secondo me non hanno poco a che vedere o comunque non sono determinate da un retaggio del passato, in primo luogo, cioè a me non pare che sia il mantenimento di un'identità del paese di origine che viene semplicemente riprodotto in Italia, ma a mio parere in realtà sono un fenomeno nuovo e il fenomeno nuovo è dato dal fatto che se un immigrato arriva in Italia e non ha sostanzialmente quasi nessuna forma di garanzia o di diritto, a me pare normale che i meccanismi più semplici che scattano sono quelli di forme di solidarietà comunitaria sulla base del tessuto di provenienza che tendono a amplificare e non a ridurre gli elementi identitari dell'appartenenza. Esattamente come i nostri concittadini che andavano negli Stati Uniti hanno dato forma, penso agli Stati Uniti, a forme di identità degli italiani in America che sono rimaste fisse e molto più pesanti, diciamo così, che cosa è avvenuto normalmente in Italia. Cioè la tese che vorrei sostenere è che secondo me non ci troviamo di fronte alla persistenza di un fenomeno identitario, ma in qualche modo di fronte a un fenomeno nuovo in cui esattamente lo spaesamento e la non accoglienza, i fenomeni di non accoglienza determinano la costruzione ex novo di fenomeni di identità pesanti che ovviamente si alimentano di quella che è la storia, sono i materiali, diciamo che ognuno ha a disposizione per costruirsi un'identità, ma secondo me determinano un elemento in qualche modo nuovo. Cioè è più il tema di come un individuo si difende in un territorio ostile che non la persistenza di una memoria. Detto questo e considerando questo dal mio punto di vista, grazie mille, è un fatto non positivo, non positivo per nessuno, per chi deve in qualche modo agire un'identità di questo tipo o per la società dove questa si inserisce.